Musica Cari amici bentornati ad una nuova puntata di Pagine di Vita. Questa settimana il disegno di Veronica ci presenta delle matite colorate e dunque questa varietà di colori ci ricorda la varietà di cui è composta anche la chiesa. Lavorare per una chiesa che non ha paura della varietà. Una chiesa sinodale, si legge nella premessa dell'Istrumento Un Laboris del Sinodo dei Vescovi appena pubblicato, è chiamata a praticare la cultura dell'incontro e del dialogo con i credenti di altre religioni, con le culture e le società in cui è inserita, ma soprattutto tra le tante differenze che attraversano la chiesa stessa. Questa chiesa non ha paura della varietà di cui è portatrice, ma la valorizza senza costringerla all'uniformità. E questo invito è quello che in fondo ha provato a fare anche la chiesa di Pistoia con il suo cammino sinodale, con il suo sinodo diocesano, che è giunto ad una svolta importante, perché sabato scorso si è conclusa la prima sessione del sinodo diocesano. Si è conclusa in cattedrale con una celebrazione, anzi una concelebrazione presieduta dal Vescovo alla presenza dei sinodali e con la votazione definitiva delle proposizioni emerse durante i lavori di questa prima sessione. Qui nell'apertura, dedicata proprio all'omelia del Vescovo Tardelli, il sinodo Pietra Miliare, ecco, il Vescovo ripercorre un po' il lavoro che è stato svolto e sottolinea alcuni punti fermi. Un'omelia molto forte, molto importante, perché il Vescovo qui ricorda, in primo luogo, questo. Abbiamo sperimentato di essere chiesa, popolo santo di Dio, pur con tutti i nostri limiti. E poi ancora, abbiamo sicuramente provato anche la fatica e la lentezza necessaria per ascoltarci e ascoltare. Tutto questo però è stato ed è salutare, perché appunto si tratta di una conversione in atto che lo Spirito Santo sta ispirando a tutta la nostra Chiesa. E ancora, abbiamo cercato di ascoltare le attese di Vangelo presenti nella nostra vita e in quelle delle persone che vivono nei nostri territori. Abbiamo individuato quindi alcune sfide che lo Spirito del Signore ci mette davanti e alle quali occorrerà rispondere con generosità e fantasia. Questo è il lavoro fatto che certamente mette in luce pregi, ma anche delle difficoltà che sono emerse durante tutto il percorso del sinodo diocesano. Siamo forse privi di difetti? Si domanda retoricamente, certo il Vescovo, ma dice assolutamente no. Siamo davvero una risposta credibile all'amore del Signore? Credo di no, tante volte. Però abbiamo tentato di essere docili allo Spirito ed Egli ci ha preso sul serio e ci ha portato avanti. L'esperienza che abbiamo fatto insieme e che ripeteremo ancora non passerà facilmente nel dimenticatoio della nostra Chiesa. Rimarrà anzi come una pietra miliare che l'ha segnata in un passaggio storico decisivo ed epocale. Questo è uno dei punti chiave di questa omelia, che però ha anche degli inviti molto forti rivolti alla Chiesa locale. E a partire da questo è l'ora veramente di finirla, di andare avanti ognuno per conto suo. Come se fossimo un organismo segnato, sezionato in mille pezzi. Pensiamo forse di poter vivere staccandosi e non relazionandosi con gli altri? La morte dell'organismo è il destino di un organismo sezionato e dispezzo, che è proprio il contrario invece dell'esperienza sinodale. Dunque vi rimando a questa ovelia molto bella, significativa del Vescovo Tardelli, che trovate anche sul nostro sito diocesano, nella sua versione integrale. E certamente il sinodo diocesano che arriva a questa sua svolta, alla chiusura della sua prima sessione, ha un rilievo eccezionale all'interno di questo ultimo numero, che era anche un numero davvero speciale, perché siamo tornati a un numero di otto pagine, e dunque otto pagine molto ricche di contenuti, e in particolare due sono le pagine destinate interamente al sinodo diocesano. Da una parte, pagina 4, trovate i commenti di alcuni dei sinodali che sono intervenuti nei lavori, in tutta la pagina ce ne sono diverse di testimonianze, nella fascia alta il sinodo come canto armonioso di voci diverse, riporta un'intervista a Alberto Perticone, dell'Associazione Maria Madre Nostra, e poi in apertura le complessità di Un Cammino, ecco c'è invece la voce di Viola Alderighi, della parrocchia di San Pietro a Casal Guidi, e ancora poi quella di Andrea Mattonelli, di Elisabetta Michelozzi, di Quarrata, di Piero Bargellini, nostro collaboratore del giornale, che fa un po' più una riflessione sul senso del sinodo, non perdere le sfide del tempo. Diversi commenti, alcuni anche un po' cungenti, sul modo in cui si sono svolti i lavori, ma d'altra parte le critiche fanno parte di un lavoro condiviso che certamente si presenta anche per la prima volta alla Chiesa diocesana e dunque chiede anche di essere erodato, diciamo così, ma riporto solamente alcune parole di Viola Alderighi che sottolinea ad esempio tra gli elementi più rilevanti emersi tra le proposizioni, tra dunque i lavori contenuti del sinodo, quelli relativi alle difficoltà delle famiglie, ai giovani, all'attesa di Vangelo e al bisogno di una Chiesa in ascolto e accogliente. Per esperienza personale, purtroppo, non sempre la Chiesa è riuscita ad aprire le sue porte, bensì spesso ha preferito chiuderle, in un'ottica probabilmente di maggiore sicurezza, dovuta al si è sempre fatto così. Da catechista, afferma Viola Alderighi, da Casa Guidi, tocco con mano il bisogno disperato di Vangelo di quelle famiglie che hanno vissuto l'esperienza dolorosissima del divorzio, dei giovani che spavaldamente dicono no a tutto, per poi finire a girare intorno ai locali della Chiesa dicendo posso fare qualcosa, di chi si avvicina dicendo vorrei partecipare maggiormente ma so di non essere giusto per la Chiesa e anche di chi, durante un evento religioso o una preghiera, gira intorno senza avere il coraggio di avvicinarsi. Mi auguro, conclude Viola Alderighi, che con questi punti così ben articolati, grazie ai contributi dei sinodali, le porte delle nostre Chiese possano spalancarsi verso ogni realtà dei nostri fratelli e sorelle, ma noi ci soffermiamo ancora una volta sui commenti perché abbiamo intervistato questa settimana Andrea Mattonelli, che è una delle voci riportate proprio qui in pagina 4 all'interno dell'ultimo numero del settimanale che ci offre un po' il suo punto di vista sul sinodo e su questa prima sessione appena conclusa. Ecco Andrea, chiusa questa prima sessione, intanto ti chiederei una tua impressione sul percorso svolto fino ad oggi. Allora, intanto grazie per questa opportunità, questa opportunità di confronto, di riflessione che prosegue quanto abbiamo già fatto in questi mesi. La mia impressione generale è che sia importante per noi considerare questo percorso come un percorso voluto, suscitato e guidato dallo Spirito Santo, perché al di fuori di questo fondamentale punto di riferimento diventa anche più difficile magari accettare un certo grado di difficoltà che ci può essere nel confronto, nell'ascolto. Quindi penso che lo stesso lavoro fatto insieme sia parte del risultato da apprezzare, perché il fatto di rimanere concentrati sui bisogni e sulle attese di Vangelo, resistendo in qualche modo all'impulso, che è naturale, di cercare subito delle risposte, sia un punto importante, perché ci aiuta a soffermarci realmente sulle attese di Vangelo, rinunciando alla pretesa di avere sempre una risposta. Ci sono delle domande che è bene che rimangano come dire, un po' in sospeso, ancora lì ad interpellarci per evitare anche risposte banali, risposte scontate e soprattutto proprio perché dobbiamo metterci in ascolto, in ascolto di noi stessi e di tutti coloro che esprimono un'attesa di Vangelo, ma soprattutto direi in attesa, in ascolto, in attesa. di quanto lo Spirito Santo ci vorrà dire. Ecco, e questo è molto importante per me. Dall'altra parte, posso dire che il confronto è stato importante, ma, come dire, mi ha fatto comprendere che spesso anche ricercare, capire le attese di Vangelo non è facile perché? Perché spesso ci confrontiamo sulle attese di Vangelo partendo dal nostro punto di vista, piuttosto che dal punto di vista di chi queste attese le esprime. Ecco, tra queste attese ce n'è qualcuna che ti è rimasta un po' più impressa, che ti sembra particolarmente significativa per il percorso che è stato fatto? Diciamo che l'attesa che ha attirato di più la mia attenzione è sicuramente il bisogno di una comunità fraterna, il bisogno di fraternità, che è un po' trasversale, trasversale a tutte le riflessioni, a tutti gli interventi, a tutte le proposte di modifica, insieme, vorrei dire, alla partecipazione dei laici. Mi è sembrato soprattutto che in assemblea vi fosse una forte sensibilità per questo aspetto, cioè riflettere di più e meglio sulla partecipazione dei laici. Quindi ho notato un grosso desiderio di partecipazione che forse andrebbe accolto, ma anche guidato, perché divenga proprio un desiderio di costruzione fattiva di una fraternità nuova, una fraternità che sia attrattiva, una fraternità che esprima la presenza di Cristo in mezzo a noi e quindi sia capace di intercettare le attese in Vangelo offrendo quelle risposte che poi sono sempre le risposte del Vangelo più che le nostre. Ecco, ma ora se qualcuno ti chiedesse, insomma Andrea, ma cosa è servito questo sinodo? Cosa serve? Tu cosa risponderesti? Intanto è un cammino, è un cammino guidato dallo Spirito Santo, è un cammino in cui abbiamo fatto esperienza di Chiesa. Ora è chiaro che per evitare che l'esperienza sia comunque autoreferenziale, dobbiamo avere la capacità di ascoltare lo Spirito Santo perché susciti noi nella seconda fase la capacità di individuare quelle risposte pastorali sulle quali poi si misurerà anche l'eticacia di tutto il lavoro fatto. Al di là di tutto, comunque il percorso stesso ci sta insegnando cosa è lo stile sinodale, che cosa significa confrontarci guidati dallo Spirito Santo, non perché non si sapesse, ma probabilmente lo stiamo scoprendo in modo nuovo. Bene, ti ringrazio allora, grazie del tuo lavoro, a presto. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Ecco, e se Andrea si soffermava in ultimo sul senso di questo cammino sinodale, ecco, qui nelle pagine del settimanale trovate anche i contenuti che sono emersi in questa prima sessione, che sono stati votati, come vedete anche qui, ecco, nella fotografia ad alzata di mano, sollevando un foglietto, un cartellino verde, rosso o giallo, ma anche confrontandosi insieme su quelli che sono i vari temi toccati dal sinodo, dalla discussione. Qui per esempio, nell'apertura di pagina 5, decifrare le sfide del presente, trovate un po' una sintesi, una cronaca dell'ultima assemblea generale che si era svolta il 20 giugno a Valdibrana, che aveva ultimato la votazione sulle proposizioni che poi sono entrate nel testo definitivo e che sono state rivotate tutte all'apertura della messa di sabato scorso. Poi, alla fine, votata ogni proposizione, è stato votato l'intero documento. Certo, c'era chi era a favore, c'era anche alcuni no, c'era anche chi la pensava diversamente, questo dice, la ricchezza anche di posizioni, varietà, ecco, che c'è dentro la chiesa pistuese. In fondo, anche il no è certo un elemento salutare all'interno della compagine della chiesa locale. Ma, dicevo, i contenuti, ecco, che cosa c'è dentro questo testo che è uscito dal lavoro dei sinodali che sarà presentato, lo ricordiamo, nell'occasione della sorenità di San Giacomo Apostolo, il prossimo 25 luglio, quando il Vescovo consegnerà, ecco, alla diocesi il frutto di questo lavoro, ecco, dicevo, i contenuti di questo testo, di questo libro sinodale sono diversi. Intanto, un'indicazione di fondo, quella che ci offre il vicario generale da un cristiano d'angelo. Non produciamo un trattato di teologia, una summa pastorale teologica, né una legge, ma un orientamento con degli orizzonti di fondo per aiutare il Vescovo nel suo lavoro di discernimento. Il testo è importante proprio perché frutto del lavoro comune, ma non dobbiamo aspettarci che esso rifletta tutte le questioni della vita della Chiesa, queste le parole del vicario Don Cristiano d'Angelo, né che sia espressione dell'opinione di uno di un altro. Questo è l'indice del testo che saranno reso noto nelle prossime settimane e l'indice riporta i titoli delle diverse proposizioni che lo compongono. Accanto chiaramente all'introduzione c'è la prima proposizione dedicata all'attesa di Vangelo, la seconda il tempo che stiamo vivendo, la terza l'attesa di relazioni umane significative, la quarta l'attesa di comunità fraterna e missionaria, 5 l'attesa di famiglia, 6 la donna, dono e corresponsabilità, e poi ancora le attese dei giovani e degli anziani, ascolto, cura e intergenerazionalità, 8 le attese dei migranti, 9 l'attesa di una chiesa nuova. Questi argomenti avremo modo di toccarli, di svilupparli prossimamente nei prossimi numeri del settimanale dove ci soffermeremo punto per punto sulle diverse tematiche contenuto nel testo che, vi ricordo ancora una volta, il Vescovo renderà noto ufficialmente al Diocese di Pistoia per la solennità di San Jacopo Apostolo. Bene, allora voltiamo pagina, dopo questa lunga sezione dedicata al Sinodo di Ocesano, ci soffermiamo in pagina 3 dove c'è una pagina intera dedicata agli anniversari sacerdotali perché il 29 di giugno la Chiesa locale celebra sempre i 25esimo, i 50esimi, i 60esimi di ordinazione presbiterale. Quest'anno sono diversi i presbiteri che festeggiano e ricordiamo ad esempio Don Cristoforo Dabrowski che fa 25 anni di sacerdozio, Don Vincenzo Moro che ne fa invece 50, Don Piero Sabatini e padre Mario Franchi che invece sono alla svolta dei 60 anni di presbiterato. E poi ecco ricordiamo anche che nell'occasione della celebrazione solenne del 29 giugno che il Vescovo celebrerà nel giardino tra l'altro del palazzo episcopale con questo desiderio ecco di fraternità presbiterale si ricorderanno anche quelli che ancora non hanno raggiunto un anno ecco di sacerdozio e cioè Don Maximilio Imbaldi e Don Alessio Biagioni ma ecco qua nella pagina trovate delle interviste ai preti che festeggiano da quella di Don Cristoforo Dabrowski a quella di Don Piero Sabatini Don Vincenzo Moro e padre Mario Franchi ecco qui per esempio nella spalla ricordo quella di Don Piero Sabatini che è il parroco attualmente è ancora il parroco di San Rocco nei pressi di Pistoia che fa un po' un resoconto del suo itinerario ecco di sacerdozio e dunque dal suo essere stato cappellano al limite sull'Arno e poi ad Agliana ma poi il suo parrocato a Villa di Baggio dopo una breve parentesi a Montale di nuovo a Villa di Baggio e poi di lì ecco al centro di accoglienza e ancora addirittura a Roma all'OPAM all'Opera di Promozione dell'alfabetizzazione del mondo e poi dopo a San Rocco dove da 32 anni è parroco una vita dunque spesa su vari fronti compreso un ruolo significativo nel campo della solidarietà della carità è stato infatti Don Piero Sabatini aver aperto la prima mensa dei poveri proprio qui a Pistoia ma poi ancora ricordiamo per esempio Don Vincenzo Moro che attualmente è il parroco di Chiesa Nuova Chiesa di Santa Maria Assunta in Gora a Pistoia che non solamente fa il punto sulla propria vocazione è nato dentro una famiglia ricca di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata ma anche una vita la sua particolarmente dedita allo studio dallo studio della filosofia ma anche allo studio di cui è stato anche insegnante per numerosi decenni nei licei pistoiesi ma anche lo studio della sacra scrittura in particolare dell'ebraico ultimamente proprio in questi giorni è uscito un suo ultimo volume dedicato al libro del profeta Ageo e dunque ecco è una figura interessante che ecco porta avanti anche questa dimensione di studio di approfondimento della parola e che fa un po' sintesi del ruolo del compito dell'identità del prete riassumendo così prete come uomo del pane della parola e del perdono del pane chiaramente inteso riferimento all'eucarestia della parola in quanto appunto si fa annunciatore e maestro della parola e poi del perdono perché è capace di donare la riconciliazione con il sacramento della confessione e poi ancora ricordiamo chiaramente brevemente per motivi di tempo l'intervista a padre Mario Franchi che racconta la sua storia di servizio da frate francescano conventuale padre Mario Franchi è entrato giovanissimo nei frati francescani conventuali e ha vissuto una buona e importante parte della sua vita nel convento fiorentino di Santa Croce dove ha ricoperto incarichi importanti è stato infatti rettore della basilica diverse volte guardiano dello stesso convento e per dieci anni anche ministro provinciale dei francescani conventuali poi a un certo punto ecco la sua vita da frate che ha avuto un'interruzione padre Mario ha sentito il bisogno di ritirarsi una dimensione più piccola e quindi poi è entrato nella diocesi di Pistoia e è diventato il parroco della parrocchia di Campiglio Santo Stefano a Campiglio di Quarrata dove tuttora svolge il suo servizio ecco qui lo vedete per esempio insieme ai bambini della prima comunione ecco ma sono tanti contenuti in questo ultimo numero di otto pagine noi andiamo a concludere la puntata di oggi dando un po' di numeri e i numeri sono quelli del rendiconto della diocesi di Pistoia per il 2022 qui in settima pagina trovate un articolo a cura di Dario Caffiero in aiuto del territorio che riporta la voce dell'economo diocesano Elisabetta Fedi che illustra un po' i contenuti del rendiconto che trovate riportato integralmente in metà della pagina ecco qui lo vedete con le sue varie voci dove trovate così anche subito a prima vista ripartiti in due grandi ambiti i proventi dall'otto per mille che arrivano alla chiesa locale alla chiesa diocesana da una parte il primo capitolo riguarda le esigenze di culto e pastorale dall'altra il secondo gli interventi caritativi e sono due voci importanti perché superano entrambe i 600 mila euro di spesa ecco una somma importante che però è vitale per la chiesa locale per più ragioni da una parte perché attraverso i fondi destinati alla diocesi nel 2022 ecco sono state possibili sono stati possibili diversi interventi non solamente necessari per poter sostenere manutenere il patrimonio storico culturale della diocesi chiese nel territorio di Cesano sono veramente tante chiedono molti aiuti molto sostegno in fondo è un servizio che viene svolto ecco rivolgendo l'attenzione a tutti perché è anche un modo di rendere fruibile un patrimonio davvero consistente e importante ma poi ecco l'altra voce rilevante è indubbiamente quella che riguarda il capitolo della carità perché qua quest'anno o meglio lo scorso anno i fondi ricevuti dalla diocesi ammontavano a 614.056 virgola 62 euro e la spesa è stata ripartita su varie voci particolarmente significativa quella ecco che riguarda la caritas diocesana nei confronti della quale si è prestata una particolare cura a tutte le attività ormai consolidate mensa dei poveri centro distribuzione vestiario emporio solidale centri di ascolto diocesano e zonali ma ancora con i proventi dell'8x1000 sono stati sostenuti il supporto sanitario psicologico legale proposti da caritas e ancora sono stati finanziati progetti rivolti alla tutela della persona dai minori alle ragazze madri al recupero delle donne vittima della tratta e poi ancora numerose somme importanti a sostegno delle famiglie per far fronte all'aumento delle spese energetiche e al caro degli affitti e poi ancora ricordiamo l'impegno ad esempio per sostenere l'accoglienza agli immigrati accolti e alcuni ospitati strutture in uso alla diocesi e coordinate ecco dalla Caritas diocesana ecco vi invito dunque a andare a leggere a verificare anche sul sito diocesano il rendiconto così da potervi ecco rendere conto di quello che è l'impegno della chiesa locale per il bene di tutti in fondo per il territorio in aiuto del territorio era infatti proprio il titolo di questo articolo bene con questo è tutto vi ricordo che il nostro settimanale esce ogni domenica insieme al quotidiano a venire in edicola noi vi invitiamo ad abbonarvi per riceverlo comodamente a casa e vi ricordiamo però che alcuni dei nostri principali contenuti li potete trovare anche online sul nostro sito web www.settimanalelavita.it bene con questo è tutto io vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento alla prossima puntata e vi do appuntamento